Però basta, ma basta con ste fesserie, ste minchiate, il cortomuso è un'offesa al calcio. Ma quale calcio? Ma cosa? Ma quale calcio? E invece il tuo calcio, Gigi Mayfredi, che cos'è? È un'offesa a cosa? È un'offesa allo sport in genere, il tuo calcio, visto che hai fallito miseramente.